Buonanotte con Dora! Ti aspetta tra poco solo su Nick Jr. I numeri, le forme e tre piccoli amici che ti aiutano a risolvere i problemi con la matematica. Trovare le soluzioni è più facile e divertente insieme a Millie, Geo e Bot. Il team Umizumi ti aspetta con i nuovi episodi dal 20 ottobre solo su Nick Jr. Ci sono piccole e grandi scoperte. Bobbastico! Allora, siete tutti pronti? Nei nuovi episodi di Zack & Quack dal 13 ottobre solo su Nick Jr. E ora, Buonanotte con Dora! Solo su Nick Jr. Esplorando il mondo con Dora, i bambini sviluppano le loro capacità di osservazione, imparano a risolvere i problemi e iniziano a imparare l'inglese divertendosi. Allora, buonanotte con Dora, i bambini sviluppano le loro capacità di osservare i problemi e iniziano a risolvere 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 i problemi. Grazie!